Il diploma è il primo traguardo importante per i giovani nel percorso di inserimento nel mondo del lavoro. È un punto di partenza necessario per muovere i primi passi nella direzione del percorso professionale futuro, ma non è sempre facile per i ragazzi aver chiara fin da subito la strada da intraprendere. Per questo l'amministrazione comunale di Isernia, con l'assessorato alle politiche giovanili, ha lanciato il Career Festival, evento per mettere gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori a contatto con il mondo delle università, degli ITS, istituti tecnici superiori e del lavoro, incontrando docenti, professionisti e aziende. Il primo appuntamento all'Auditorium Unità d'Italia ha visto la presenza del docente dell'Università degli Studi del Molise di Informatica, Annalisa Ferrara, del docente Unimol di Biologia, Marco Segatto, e della docente storica dell'arte, Carmen D'Antonino. Il settore dell'informatica, ha spiegato la professoressa Ferrara, continua ad essere tra quelli che offrono maggiori sbocchi professionali. Gli sbocchi professionali in informatica, come ben sappiamo, sono tanti oggigiorno, a partire dalle figure più prominenti come l'esperto di cyber security o il data scientist, ma quello che oggi vogliamo cercare di capire è come questo trend eventualmente evolverà nel tempo, cioè se questo trend in cui l'informatica praticamente si ritrova ovunque continuerà o come deve cambiare la figura dell'informatico per poter appunto stare a passo con i tempi. Tante le carriere che si prospettano a chi sceglie questo indirizzo. Oggi l'impiegabilità degli studenti è praticamente altissima, già dal primo anno dopo la laurea trovano subito impiego. È chiaro che bisogna capire che tipo di impiego viene trovato. Oggigiorno si trovano lavori anche a tutti i livelli praticamente, anche senza avere delle competenze specifiche, però molto probabilmente per raggiungere quei livelli più alti è necessario coltivare delle competenze che siano più specialistiche. Anche la biologia, specie in questo momento storico, è una facoltà che può offrire numerosi sbocchi lavorativi. Finalmente forse la biologia e la professione del biologo prendono in modo abbastanza decisivo il loro posto nel mondo. Non ci dimentichiamo che usciamo da un periodo particolarmente complesso, da un punto di vista di gestione biosanitaria, e mi riferisco ovviamente alla pandemia della Covid-19. Quindi la figura del biologo come professionista sicuramente trova molto spazio in ambito lavorativo e questo spazio è dettato anche dalle nuove necessità lavorative di rispondere ad esigenze sociali ed economiche. Accanto alle materie scientifiche non bisogna tralasciare quelle umanistiche, in particolare nel campo dell'arte, che vanta un ampio ventaglio di figure professionali. Gli sbocchi sono comunque molti, perché i tasselli sono tanti. Abbiamo la figura del gallerista, del critico d'arte, la figura del perito d'arte, del curatore, del museografo, del museologo. Quindi sono varie, direttore artistico, direttore di un museo, come si può lavorare in quest'ambito. E ovviamente è importante anche capire se si può utilizzare la storia dell'arte ed essere critico d'arte nel proprio territorio. Non dobbiamo mai dimenticarci che viviamo in una nazione dove vige la bellezza. Il consiglio che voglio dare a questi ragazzi è quello di seguire sempre il proprio cuore, i propri sogni, di non abbandonarli mai.